Il mio primo giorno di lavoro, appena diplomata e subito assunta Il mio primo giorno, 30 anni fa Dieci anni di turni, però mi sono comprata la casa Certo che con questa crisi chi l'avrebbe detto 50 anni fa mia madre, quanto lavoro, quanta fatica Mi sto pagando la macchina E adesso vorrei proprio fare un bambino Quante mani consumate per la bellezza E ora sono pronta, sono pronta per conquistare il mondo Sarò davvero pronta? Beh, posso farcela Vai, posso farcela Tutti i giorni noi scegliamo L'Oreal perché anche noi balliamo! Grazie per la visione!